Sentite, mi dispiace, sono esausto, va bene? Non ho chiuso a occhio. Brian e il cane del vicino non mi hanno fatto dormire. Ehi là! Ehi là! Ehi là! Sei un cane? Sì! Anch'io sono un cane. Ottimo! Sì, siamo cani! Sì, siamo cani! Siamo cani e vi diamo vicini! Ehi, siete dei cani! Sì, entrambe! Puoi scommettarsi! Siamo cani! Se ti senti così stanco, forse dovresti prendere un caffè. Sì, oppure bere una Red Bull. Red Bull? Che cos'è una Red Bull? Non la conosci? È una bevanda energetica. Ecco qui, Peter, offre la casa. Allora, che mi dici? Ehi, 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 ehi! Sei fatta a tornare, ma dove sei stato? Ero preoccupata da morire. Ho bevuto qualche Red Bull. Qual è il problema? Ah, che mio piccolo mito! Fatto! Wow, bravo, papà, che forza! Potrei provare anche io la Red Bull. Tu mi chiedi se puoi provarla? Tu mi chiedi se puoi provarla? Cris, tieni, prendi. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei. Prendi, 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 prendi. Picchiera lo fa così. Vado a mungere la mucca adesso. Peter, dove è preso quella mucca? Che domanda sciocca, Lois. L'ho comprata così avremo latte fresco tutti i giorni. Oh, 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 acci caccio questa Red Bull. Sì che è forte. Questo è ok, il prezzo è giusto. Ora giriamo la ruota. Il vincitore è Peter, quindi darà lui il primo giro. Peter, devi avvicinarti a un dollaro senza superarlo. Bene, nell'attesa c'è qualcuno che vuoi salutare? Sì, voglio salutare Lois, Brian, Chris, Tiwi, Meg, Joe, Bonnie, Quagmire, Cleveland, Moore, Simus, Adam, Dottor Etman, Bruce Carter, Barbara, Tom Tucker, Angela, il pollo gigante e il sorda laggiù. Sicuramente ne saranno felici. Wow, forza paramedici, correte! Ehi, che cosa stai facendo? Lois, tu sai dov'è la mia Red Bull? Me ne sono sbarazzata, Peter. Perché cacchio lo hai fatto? Ti stava facendo impazzire e non è una buona cosa per te. È per questo che le ho versate tutte sul prato. È per la sicurezza nazionale. Che cosa stai facendo? La mia Red Bull personale. Lois non può impedirmi di sperimentare i tanti frenetici alti e bassi che il mio corpo richiede. Aspetta, aspetta, stai aggiungendo il kerosene. Peter, è una follia, ti distruggerà il fisico. Il kerosene è un carburante, Brian. La Red Bull è un carburante, il kerosene è uguale Red Bull. Ora lasciami fare questa cosa di vitale importanza. Peter, quell'intruglio ti ucciderà. Tutto quello che non mi uccide mi rende più forte. Visto, Brian? Io mi sento belone. Peter, Peter, sei vivo? Sei vivo, meno male. Bene, allora io... Allora io non ti mangerò. Stavo per mangiarti.